Cos'hanno in comune il ritratto di Oriana Fallaci? Due soldati che in Vietnam prendono in braccio due bambini e soprattutto questa foto famosissima scattata a città del Messico 1968 quando durante la premiazione dei 200 metri Tommy Smith e John Carlos alzano il pugno chiuso in segno di vicinanza alla popolazione afroamericana nella sua battaglia per i diritti civili ancora non riconosciuti semplice il fatto di essere state scattate tutte da uno dei più grandi fotoreporter italiani del mondo ossia Angelo Cozzi. Proprio a lui col titolo Sguardi sulla storia viene dedicata una prestigiosa mostra dal Museo di Otti di Casal Maggiore con partenza sabato 28 gennaio e termina un mese dopo il 26 febbraio. A curarla è Luigi Briselli anche egli fotografo di Martigliana di Po, amico di Cozzi da decenni e suo collaboratore in alcune campagne fotografiche dal Vietnam alla Guerra dei Sei Giorni, dalla Praga di Jean Palac alla Cuba di Fidel Castro dalla rivoluzione islamica di Khomeini alla missione Apollo 11. Classe 1934 Cozzi ottenne il suo primo incarico come reporter d'agenzia avviando la sua carriera con Farabola nel 1951 durante l'alluvione del Polesine dal 1959 entrò in Mondadori, realizzò per il settimanale Grazia servizi con una troupe di indossatrici e giornalisti in giro per il Globo e per epoca reportage di grande impatto dai fronti delle guerre in corso nel mondo lavorò per circa un vent'anni alla Domenica del Corriere e su è la copertina dedicata all'incoronazione di Farah Diba nel 1967 con cui la rivista abbandonò le storiche copertine illustrate a favore delle copertine fotografiche è veramente impressionante il numero di celebrità che incontrò e il numero di eventi di cui fu testimone tanto che la sua produzione appare oggi ai nostri occhi come una vera e propria enciclopedia visuale di almeno un trentennio di storia del Novecento la mostra del Museo di Otti oltre ad esporre un nucleo significativo di immagini sia a colori che in bianco e nero che offrono uno spaccato della sua lunga attività è arricchita da pregevoli apparati, copertine, articoli originali di riviste, documenti, tessere e pass giornalistici grazie